Con la consegna della medaglia di bronzo da parte di Franco Gualdi Medaglia d'argento Medaglia d'argento per il secondo classificato nella classifica assolutamente passi anche ai piloti stranieri Secondo posto per Mathieu Grimm E allora andiamo ad accogliere il vincitore per la consegna della medaglia d'oro FMI Titolo Italiano 2022 nella classifica assoluta Midas per Sonny Goggia E questo è il podio dell'assoluta Midas 2022 con la conquista del titolo italiano Due titoli italiani dicevo stagione veramente straordinaria Insomma anche al titolo europeo conquistato dallo stesso Sonny In questa annata veramente preziosa da incorniciare Congratulazioni Sonny, congratulazioni davvero